Allora, io già normalmente di mio sono euforica, rido e non ho bisogno di tecniche, ma siccome non tutti possono seguire me, era d'obbligo avere una certificazione, quindi chi mi conosce lo sa, chi non mi conosce dopo questo forse mi evita, ma va bene. Io sono felice lo stesso! Grazie Lisa!